Palermo, il senso della lapa, di Roberto Alaimo. Una piccola disdetta che capita spesso è il volo di ritorno nel pomeriggio, quella situazione in cui l'albergatore vi comunica che dovete lasciare la stanza a mezzogiorno e il vostro aereo parte alle 5, come minimo. Praticamente siete de senza tetto, a tempo indeterminato, per fortuna, ma senza tetto. Per di più, a Palermo, per sei mesi l'anno, le prime ore del pomeriggio sono micidiali, sconsigliatissime per passeggiare o svolgere attività men che obbligatorie. Disdetta, ma non grave, di quelle che possono trasformarsi in un piccolo giacimento di tempo prezioso. Magari siete a Palermo per lavoro e non avete avuto il tempo di girare per la città e ora avete la benedetta seccatura di 5 o 6 ore senza niente da fare. Ecco, supponendo di restare incastrati in una situazione del genere, dovendo neutralizzare la controora senza poter contare su ombra e aria condizionata, il meglio possibile forse è affittare una lapa e farsi portare a spasso. Si chiama lapa a Palermo quello che altrove nel mondo è ape piaggio, il mezzo a tre ruote che si adopera per piccoli trasporti, per vendere frutta o altri prodotti, muovendosi con leggerezza ed efficacia. In Sicilia l'ape ha subito una mutazione genetica che fin dal nome, la lapa appunto, l'ha resa qualcosa di diverso, meritandosi fino anche un saggio apposito. L'ape, antropologia su tre ruote di Franco Lacecla. Senza possedere la protervia dell'automobile, la lapa si armonizza l'anarchia del traffico cittadino aggirando pure la strafottenza dei mezzi a due ruote, che poco si adattano alle prestazioni di fatica. In India, ape ha subito una mutazione analoga, soppiantando ormai nelle grandi città i risciò a pedali. E sarebbe interessante dare un'occhiata alle classifiche di vendita, magari per scoprire che vengono comprate ormai solo in Sicilia e nel subcontinente indiano. A Palermo della Lapa si fa un uso commerciale svariato. In anni recenti qualcuno si è pure industriato a trasformarle in mezzo di trasporto per turisti. Qualcosa di meno del taxi, ma più pittoresco e qualcosa di diverso anche dalle carrozze trainate da cavalli, che ancora si trovano in città, rispetto alle quali la Lapa presenta il vantaggio di poter circolare anche nei veicoli più stretti del centro storico, dall'albergheria al capo, quasi ovunque. La modifica del mezzo, in questo caso, prevede una disposizione di quattro posti su due file, con tettuccio e mezzi sportelli, e l'aggiunta di vari addobbi più o meno spiritosi. I guidatori di Lapa si offrono ai turisti negli angoli strategici, cercando di selezionarli a occhio, allettandoli con offerte insidiose. Insidiose perché, non essendoci il tassametro, il passeggero che accetti di salire a bordo deve poi farsi il segno della croce e mettersi nelle mani dell'autista. Si consiglia, quindi, dopo aver messo al sicuro il bagaglio in albergo, di lasciarsi adescare da un lapista e intavolare con lui una trattativa di quelle che sempre si fanno in Medio Oriente, e Palermo è Medio Oriente, in modo da spuntare un buon prezzo ed evitare brutte sorprese. Bisogna trattare molto, non solo per risparmiare, ma soprattutto per ottenere il rispetto del vostro interlocutore e dissuaderlo dall'idea di provare a imbrogliarvi. Occorre quindi spiegargli le vostre esigenze con chiarezza e acquisire, ai suoi occhi, un'autorevolezza che, in partenza, lui tenderà in col suo a negare, immaginando che, se uno vuol fare un giro per Palermo nel primo pomeriggio su una Lapa, è anche abbastanza svampito da potere, addirittura volere, essere truffato. Difficile non risultare stupido di fronte a chi si ritiene fin troppo furbo, ma nemmeno impossibile. Una volta agganciato il potenziale cliente, il lapista ha tutto l'interesse a tenerselo stretto e con un paio di finte si può concordare un prezzo ragionevole e un giro anche mediamente lungo. I guidatori di Lapa sono famelici. Quando si vedono scappare un cliente che ormai immaginavano a bordo, sono capaci di far crollare il prezzo della corsa. Certo, un giro di tre ore non sarà tanto economico, quindi anche voi non fate i micragnosi. Una volta raggiunto l'accordo, stringetevi la mano. Anche la pista più furbastro si sente vincolato da una stretta di mano, che vale come patto d'onore. Dopodiché, affidatevi e rilassatevi. Il giro che potete concordare comincia con un pasto stradale, visto che nel frattempo si è fatta ora di pranzo, e quindi subito potete mettere a frutto il patto d'onore che avete stretto con il vostro lapista, chiedendogli di portarvi in una rosticceria che si di consigliarvi, ad assaggiare una delle specialità che rendono Palermo la capitale europea dello street food. Panelle, pane con la milsa, crostini, spiedini, sfincionelli, tutta roba dannosissima. Ma fra tre ore sarete su un aereo che vi riporterà in un universo gastronomicamente igienizzato, e tanto male una singola trasgressione non può farvi. Consumato il pasto, puntate su mondello. Alla borgata marinara, che i parermitani considerano indiscutibilmente la più bella del mondo, si arriva in una mezz'oretta dal centro. Ma chiedete al vostro conducente di evitare di infilarsi nel traffico che, nei giorni festivi e per tutta l'estate, stringe d'assedio il paese. Domandategli di vedere mondello da lontano, salendo lungo la strada che porta in cima a Monte Pellegrino. Almeno i primi due tornanti dovrebbero essere percorribili dal mezzo non potentissimo, e da lì si gode un panorama che fa un certo effetto. La sabbia quasi bianca rende il mare di un celeste molto chiaro, forse irripetibile, almeno nel Mediterraneo. Ammirata da lì, mondello non è il carnaio rovente che certi giorni diventa se vista dal di dentro. Questo vale anche per Palermo in generale, metaforicamente parlando. Osservata da lontano, la città riesce a mascherare meglio le magagne. Tornando verso Palermo chiedete al conducente di fare il giro dalla Daura, ossia di percorrere la strada che si insinua fra coste e montagna. Una delle poche che consentono di vedere il mare, almeno a intermittenza. Ci sarebbe molto da dire sul rapporto fra Palermo e il suo mare, e molto è stato anche scritto. Basti qui ricordare che gli abitanti di questa città hanno la tendenza a fare finta che non ci sia o che non conti. Lo tralasciano, lo ignorano, lo danno un po' per scontato. Certe volte, se non ci fossero le carte geografiche a fare presente il contrario, si sarebbe portati a pensare che Palermo sia una città dell'entroterra. Anche passando davanti al porto, una cortina edilizia ininterrotta impedisce di far viaggiare l'occhio verso l'azurro. Alla cala, il vecchio approdo oggi riservata alle barche da di porto, si arriva quando ormai stavate dubitando dell'esistenza stessa del mare. Da Piazza Marina, giusto lì dietro, infilatevi nella calza. L'antica cittadella fortificata degli arabi, il quartiere che oggi meglio incarna l'identità contraddittoria di Palermo. Le cicatrici dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale qui sono ancora visibili, rammendate a tratti e comunque sempre contraddistinte da una disperata vitalità. Andate alla calza per capire Palermo, infilatevi per i suoi vicoli, sprezzando i rischi dell'imbottigliamento, lasciatevi portare rinunciando al senso dell'orientamento per abbandonarvi ai sensi del disorientamento. A farvi da garante sarà il vostro lapista che, non essendo stato ancora pagato, ha tutto l'interesse a riportarvi sani e salvi in albergo. In un unico piano sequenza, davanti al vostro sguardo e all'udito e all'olfatto, si susseguiranno i palazzi Butera e Forcella de Seta, Chiaramonte Steri e Aiutami Cristo, l'Orto Botanico e Villa Giulia, le chiese della Magione e dello Spasimo, che si trovano ai due capi opposti di un'enorme piazza creata dai bombardamenti. In mezzo a tante rovine, cercate di non cedere al gusto piranesiano del rudere. È fin troppo agevole abbandonarsi all'estetica del disastro, dimenticando che con quel disastro c'è gente che si misura ogni giorno e ne farebbe volentieri a meno. Sarebbe facile lo sdilinquimento per voi che fra due ore sarete in volo verso casa. Piuttosto, accorgetevi dei segnali di fioritura, lì dove gli interventi di restauro e recupero stanno facendosi strada in mezzo alle rovine. Qui, ancor più che in ogni altro angolo della città, potete comprendere che Palermo non è e non sarà mai una città pacificata e perfetta come magari Venezia o Firenze. La stessa anima nera di Roma è molto edulcorata dalla sua compostezza classica. Ecco, Palermo non sarà mai così. Qui la lotta fra bene e male, vite e morte, disastro e rinascita, è destinata a non esaurirsi mai. Difidate anzi da quelli che vi forniscono un ritratto univoco, riconducibile a uno dei due estremi di orribile e stupendo. Questa città è entrambe le cose, senza mai riuscire a essere nella sintesi, mantenendo cioè ben distinte le sue opposte componenti. La piccola madre ha le unghie, diceva Kafka di Praga, e non conosceva le unghie di Palermo, che sono retrattili e quindi ancora più insidiose. È una città che vi morde con la stessa bocca con cui vi sta baciando e voi non potete fare nulla per sottrarvi né ai morsi né ai baci. Vi frega Palermo, vi frega come cercherà di fregarvi il conducente della vostra lapa, quando lasciandovi in albergo proverà a spillarvi ancora qualche euro, adducendo supplementi o varianti al giro concordato. Allora voi sorridete e spiegategli che i patti sono patti. Accordategli magari una piccola mancia e promettete di tornare. Lui forse non se lo merita, ma Palermo sì.